Il direttore regionale della Sanità Umbra, Emilio Duca, ha informato i membri della Commissione Sanità e Servizi Sociali del Consiglio regionale sui costi sostenuti dalle aziende sanitarie locali per i presidi e ausili sanitari. L'informativa è stata richiesta da alcuni membri della Commissione, presieduta da Massimo Buconi. Il consigliere Franco Zaffini ha ricordato che sugli alti costi dei presidi sanitari pagati dalla pubblica amministrazione Umbra rispetto ai prezzi praticati a privati è andato in onda anche un servizio della trasmissione televisiva Le Iene. Il direttore ha spiegato che la normativa di riferimento per questo tipo di acquisti da parte delle regioni è nel decreto ministeriale 332 del 1999, che individua tre elenchi di dispositivi protessici. Gli elenchi 2 e 3 si riferiscono a dispositivi prodotti in serie, come cateteri o pannoloni, per i quali le regioni hanno facoltà di procedere con gare di acquisto a evidenza pubblica, mentre quelli dell'elenco 1, gli ausili personalizzati, come protesi per arti, carrozzelle, apparecchi per udito, non vengono prodotti in serie, non ci sono gare e il cittadino sceglie il fornitore, dietro prescrizione medica. Quindi avviene la verifica da parte del sistema sanitario che ne autorizza il rimborso. Quando la sanitaria vende a un privato nulla osta, perciò che gli pratichi un forte sconto, che dipende anche dai tempi di pagamento, ha spiegato il direttore, il quale ha aggiunto che si sta organizzando un confronto con le organizzazioni sindacali delle sanitarie allo scopo di concordare un prezzo scontato rispetto al nomenclatore tariffario.